Amici di Rock'n'Roll sono qui per supportare una nuova band, una band di nuova generazione che si chiama Kylie Spork, loro hanno scritto sulla pagina degli Undead e mi hanno chiesto appunto di dargli un po' di promozione, un po' di aiuto per quella che sarà la loro campagna di crowdfunding. Si tratta di una band che fa Irish di base ma con tante influenze anche vicine al mondo dei Floggy Molly. Essendo un suono che a me piace tantissimo io vi chiedo di seguirli e di cercare di darvi una mano per quella che è la loro campagna. Appena partirà il crowdfunding, io sarò sicuramente uno dei primi a contribuire in piccola o in grande dose, quello dipende solo ed esclusivamente da loro. Supportate la buona musica. Andrea Rock